E siamo qui con Luca Giverso di Giverso Gioielli che ci presenta la sua nuova collezione. Buongiorno Luca. Buongiorno ragazzi, siamo qui a Palazzo Cavour, una splendida location nel cuore di Torino dove presentiamo in esposizione questo evento del lusso dedicato al matrimonio tutto quello che concerne appunto il gioiello. Il gioiello è per la sposa, per lo sposo, per le suocere, eventualmente per i testimoni e in più, oltre a quello che è il gioiello, presentiamo in esclusiva la Tormalina Paribu una gemma eccezionale con origine monzambico una gemma che adesso vi accompagnerò a vedere all'interno delle teche. Dalla sua scoperta questa gemma è diventata fra le più ambite al mondo. Vi apro la teca così potrete poterla ammirare da più vicino. Dicevo che questa gemma è diventata fra le più ambite e preziose del mondo facendo incrementare il suo valore di scambio in maniera esponenziale soprattutto grazie alla sua unicità ed estrema rarità. Infatti pensate che si stima il ritrovamento di una paraiba ogni addirittura 10.000 diamanti. Infatti oggi è considerata la pietra da investimento per eccellenza superando di gran lunga i diamanti e le altre pietre preziose. Infatti si pensa che il grezzo di questa meravigliosa opera d'arte della natura si esaurirà nel giro di pochi anni determinando un inevitabile ulteriore aumento del suo valore. Qui all'interno della vetrinetta potete ammirare dei tagli goccia dei tagli briolè, dei tagli ovali e addirittura una splendida presentazione per una realizzazione di un tennis.